Bentornati sul mio canale o benvenuti se siete nuovi, il mio nome è Lisa True Crime e come ogni lunedì e venerdì anche oggi mi siedo qua con voi e vi racconto una storia di True Crime che mi ha particolarmente scioccata. Vi ricordo che il fine dei miei video è quello di denunciare, diffondere consapevolezza ma soprattutto quello di ricordare le vittime di queste storie, ovviamente senza mancare di rispetto a nessuno. Oggi parliamo di un caso italiano, un caso che mi sta molto a cuore perché è capitato proprio nella mia città che è Torino, tra l'altro molti di voi mi chiedono ogni volta di dove sei, che accento strano che hai, alcuni di voi mi hanno detto non sei italiana apri le vocali come Belen, avete fatto questo paragone azzardato direi, comunque no le mie vocali sono aperte come sono aperte le vocali di chi vive a Torino. Molta tristezza, molta rabbia, ve lo dico già, preparatevi ad innervosirvi quindi prendete un antistress, prendetevi una tisana, una camomilla e cominciamo. Oggi parliamo del caso Rosbock. Gloria Rosbock nasce il 28 marzo del 1976 a Castellamonte che è un paesello in provincia di Torino, uno di quei paesini piccoli dove si conoscono tutti e soprattutto dove non succede mai niente. Figlia di Ettore Rosbock e Maria Luisa Mores. Gloria è sempre stata una persona molto timida, fin da quando era bambina. Era una persona sensibile, alcuni direbbero magari anche un po' fragile. E forse è proprio quella fragilità che ha portato i suoi genitori da sempre a volerla proteggere. I genitori erano molto apprensivi con lei, la vedevano come piccola indifesa, di conseguenza erano sempre lì a controllarla, la riempivano di attenzioni e alcuni potrebbero dire che fossero un po' oppressivi. Ma Gloria era la loro unica figlia e quello era il loro modo di amarla. Ma tutto questo ovviamente fa sì che Gloria cresca molto insicura, molto introversa. Fa della sua casa e del suo ambiente familiare la sua zona di comfort, da cui non ha mai voluto uscire. Studia lingue all'Università di Torino in cui si laurea perché il suo sogno era quello di diventare un insegnante di francese e ci riesce. Dopo gli studi infatti inizia ad insegnare in una scuola media proprio a Castellamonte dove vive. Gloria faceva una vita molto semplice. Quando non era a scuola a insegnare era a casa con i suoi genitori con cui viveva. Aveva qualche amica storica con cui ogni tanto usciva a mangiare la pizza, ma non era una a cui piaceva uscire la sera, fare festa. Una cosa che le piaceva però era guardare le partite di calcio perché era una grande tifosa della Juve. E questa era una passione che condivideva con suo padre. Era qualcosa che li legava. Gloria era una persona estremamente buona, forse un po' ingenua, perché non aveva mai conosciuto i mali del mondo. L'unica esperienza negativa, l'unico male del mondo che aveva conosciuto, era stato un po' di anni prima, quando due truffatori si sono introdotti in casa sua fingendosi dei tecnici dei termosifoni. E ingenuamente Gloria li aveva fatti entrare e loro indisturbati avevano fatto piazza pulita di tutti i gioielli che lei aveva in casa e di tutti i contanti che avevano trovato. Gloria era vissuta in questa bolla di protezione dei suoi genitori. Di conseguenza non aveva malizia, vedeva il buono in tutti. E aveva visto il buono anche in Gabriele De Filippi. Un ragazzo anche lui di Castellamonte, che viveva con sua madre, una donna di nome Caterina a Battista e con il suo fratello minore. Gloria conosceva Gabriele da quando aveva 12 anni. Ed era sempre stato un ragazzino un po' problematico, un po' ribelle, tutti lo definivano strano, un po' troppo esuberante. Infatti già dalle scuole medie Gabriele aveva iniziato ad avere problemi. Non riusciva a stare al passo con gli altri ragazzini. Ma non perché fosse meno intelligente, anzi, ma perché era troppo ribelle per sottostare alle regole, diciamo, e agli impegni scolastici. Di conseguenza si ritrovava sempre indietro con lo studio e sempre con materie da recuperare. E sua madre Caterina, che non sapeva più dove sbattere la testa, chiede consiglio a una sua amica, che le consiglia di rivolgersi alla professoressa Gloria Rosbock. Gloria era brava, poteva dargli ripetizioni e si faceva anche pagare delle cifre ragionevoli. Allora Caterina contatta Gloria e lei ovviamente accetta subito, accetta di aiutare Gabriele, che inizia ad andare a casa sua alcuni pomeriggi per fare queste ripetizioni. E poco a poco Gabriele diventa un po' amico di Gloria. Crescendo Gabriele diventa sempre più tormentato. È un bel ragazzo e sa di esserlo e a quanto pare tutte le ragazze gli morivano dietro. Ma a lui piaceva proprio snobbarle, gli piaceva essere corteggiato, gli piaceva farsi desiderare. Perché a Gabriele piaceva piacere alle donne, agli uomini, non importava, l'importante era piacere. E Gabriele aveva anche mille identità, gli piaceva cambiare, cambiava spesso colore di capelli, pettinatura, aveva sempre questi look super estremi, tutti che miravano a colpire. Voleva distinguersi dalla massa, si sentiva diverso da tutti, incompreso. E sul suo diario scriveva spesso tutte queste poesie, sul suo senso di solitudine che provava costantemente. E scriveva frasi come E alcuni media hanno anche enfatizzato il fatto che a volte si vestisse da donna, dicendo che probabilmente la sua identità sessuale era un po' confusa. E magari è vero, ma sicuramente a Gabriele piaceva proprio fare il camaleonte. Gli piaceva cambiare soprattutto in base a chi si trovava davanti. Sì, perché crescendo Gabriele impara ad essere un bravissimo manipolatore. E ne è cosciente. Studia anche psicologia per i fatti suoi, appassionato di psicologia, e studia la mente umana proprio per capire come manipolarla meglio. Aveva anche mille profili diversi sui social media. Era in contemporanea Gabriele Alexander, Gabriele Accardi, Gabriele Anderson, Gabriele Anderson Kenny, Gabo Anderson e anche P.H. Mi. Ok. E su ogni profilo c'è un Gabriele diverso, con un look diverso ed una personalità diversa. E davvero in alcune di queste foto si fatica a credere che sia la stessa persona, per quanto fosse bravo a trasformarsi. La madre lo porta da un neuropsichiatra già all'inizio dell'adolescenza, perché era palese che avesse una personalità disturbata. Infatti viene messo sotto antidepressivi e ansiolitici già dall'età di 16 anni. E già allora la psicologa aveva notato in lui tratti narcisistici e istrionici. Aveva notato una scarsa capacità di empatia e di identificazione nell'altro. Ma lo tiene in seduta finché Gabriele non compie 18 anni. A quell'età Gabriele era libero di scegliere e lui sceglie e decide che non ha bisogno di andare in terapia. E non ci va più. Comunque Gabriele era l'esatto opposto di Gloria Rosbock. Gli piaceva il rischio, gli piaceva osare, era molto ambizioso. Nella vita diceva di voler diventare ricco. Voleva avere tanti soldi, fare tante avventure. Di conseguenza immaginate quanto gli stesse stretta la sua vita a Castellamonte in provincia di Torino. Odiava tutto del vivere lì. E oltretutto la situazione economica della sua famiglia era lontana dal potergli permettere lo stile di vita che avrebbe voluto. Perché la madre Caterina aveva 45 anni e faceva l'operatrice socio-sanitaria. E col suo unico stipendio doveva mantenere se stessa le numerose richieste di Gabriele. Perché ovviamente doveva comprarsi vestiti di un certo tipo, andare in un certo tipo di locali, non poteva mica accontentarsi. E doveva anche mantenere il fratello minore che tra l'altro aveva bisogno di attenzioni e cure particolari. E quindi a un certo punto Gabriele capisce che se vuole fare una bella vita ha bisogno di soldi. E questi soldi non possono certo venire da sua madre che non ne ha. Capisce che deve trovare un modo per fare soldi. E ovviamente farsi il mazzo e andare a lavorare fuori discussione. Lui non era come tutti gli altri, non aveva bisogno di lavorare. Voleva trovare una scorciatoia. Ed è lì che allora decide di vestire i panni di Gabriele il seduttore. Nel 2011 si avvicina ad una donna di nome Marzia Lachello. Che faceva la maestra in una scuola elementare. Una donna benestante di 12 anni in più di lui. E nonostante Gabriele fosse ancora minorenne ai tempi, cerca comunque di sedurla. Ora qua ci sono diverse versioni. Sul libro che ho letto c'è scritto che addirittura questa donna diventa l'amante di Gabriele per ben due anni. E che abbiano anche avuto un breve periodo di convivenza. Finché la madre di lei, la madre di Marzia non la costringe diciamo ad uscire da questa relazione malata in cui si era infilata. Invece su altri articoli che ho trovato lei dichiara di non aver mai avuto nessun tipo di rapporto con Gabriele. Che andasse oltre l'amicizia. Dichiera che queste erano tutte bugie. Erano solo amici. Lui era un ragazzino problematico che aveva bisogno di aiuto, aveva bisogno di un amico. Qualcuno che lo ascoltasse. E lei aveva provato ad aiutarlo. Ma Gabriele aveva iniziato ad essere molto insistente con lei. Aveva iniziato a telefonarle un milione di volte al giorno. E lei oltretutto era sposata. Quindi per evitare che le cose diventassero ambigue aveva deciso di troncare questo rapporto. Forse Gabriele aveva intenzione di approfittare di questa donna e poi alla fine non c'era riuscito. Non è chiaro. Ma a quanto pare da quel momento Gabriele inizia ad accompagnarsi spesso e volentieri a donne molto più grandi di lui. E anche uomini. E a tutti inizia a spillare soldi manipolandoli o direttamente ricattandoli. Ad un certo punto addirittura adesca una donna sul web. Una donna di 45 anni e anche lei sposata di nome Efisia Rossignoli. E anche qui tenta di sedurla. Le racconta che aveva un progetto fantastico. Un albergo in riviera. Cosa che ovviamente era una bugia. E le propone di diventare sua socia. Le propone di cambiare vita. Insieme a lui. E per poco non ci riesce perché Efisia va in banca e chiede un prestito di 50.000 euro per comprare questo hotel. Ma la sua busta paga è troppo magra e la banca glielo rifiuta. E quindi subito dopo Gabriele indovinate cosa fa. La scarica. Ecco Gloria Rosbock aveva visto il buono anche in Gabriele. Nonostante di buono ci fosse ben poco. Gabriele una volta aveva avuto una pesante lite con un professore. Collega di Gloria. Che aveva insultato pesantemente e riempito di minacce. In uno dei suoi scatti d'ira. E questo professore aveva giustamente fatto rapporto. E Gloria era stata l'unica a difenderlo. Aveva tentato di far cambiare idea al collega. Dicendogli che era un ragazzo molto intelligente. Pieno di doti. Solo un po' troppo esuberante e incompreso. Ma tutti gli altri professori le rispondono che quello era un delinquente e basta. A quel punto Caterina, la madre di Gabriele, lo toglie da quella scuola e lo mette in un istituto privato. Tentando di farlo diplomare. E Gloria che ormai se l'era preso a cuore. Si offre di continuare a dargli ripetizioni per aiutarlo a passare l'anno. E questa sua grandissima bontà d'animo purtroppo le costerà molto cara. Siamo nel 2014 e Gabriele ha 20 anni. Ed è a quel punto che si rende conto che Gloria sarebbe stata la sua prossima vittima perfetta. Tra una ripetizione ed un'altra Gabriele tenta di approfondire la loro amicizia. Vestendo i panni del Gabriele perfettino e gentile. Gabriele scaltro e sa che i genitori di Gloria sono molto protettivi con lei. Sono anziani, sono persone all'antica, persone rigorose. Quindi si trasforma in quello che loro volevano vedere. Ovvero un bravo ragazzo. Un ragazzo a modo, sempre gentile, premuroso. Vesse i panni di un ragazzo normale. Con vestiti normali. Tutto l'opposto di quello che in realtà era. Sa anche che Gloria nella sua vita non ha mai avuto un fidanzato. Non si è mai innamorata di nessuno e nessun uomo si è mai innamorato di lei. Non ha mai conosciuto quell'aspetto della vita. Aveva sempre vissuto con i genitori. E aveva sempre fatto la stessa vita semplice, piena di piccole cose. E a sua volta Gabriele si fa vedere da Gloria anche molto fragile. Le racconta dei problemi che stava avendo con la sua fidanzata, una ragazza che viveva in Toscana. Con cui le cose stavano per finire. E le cose si mettono ancora meglio per lui quando dopo un po' di tempo, dopo lunghissime passeggiate con Gloria, chiacchierate, qualche pizza insieme e addirittura qualche bacio, come lei confida alla sua amica storica, Gabriele si era guadagnato così tanto la fiducia di Gloria da farle confessare di avere dei risparmi da parte. Gloria inizia ad aprirsi con lui. Gli parla del suo rapporto con i suoi genitori, del fatto che fossero molto apprensivi con lei, che la controllavano in tutto. E gli confida di averlo raccimolato il suo pezzettino di indipendenza, perché aveva messo da parte a suo nome ben 187.000 euro. Con cui sognava un giorno di poter cambiare vita, andare a vivere da sola, vivere una vita in autonomia, una vita diversa. Gabriele era un vero e proprio predatore, aveva localizzato tutti i punti deboli della sua preda e stava solo aspettando il momento giusto per attaccarla. E il momento si presenta quando Gloria gli chiede aiuto per fare un ricorso al Tar. Gabriele si offre subito di aiutarla e inizia a spacciarsi per un esperto di finanza. Le spiega che da qualche tempo aveva trovato lavoro in un'azienda con sede a Milano che si chiamava Business Service Group e che aveva in progetto tante cose con la sua carriera. E per convincerla di tutto questo, un giorno si fa arrivare una mail che legge a Gloria da un certo Piero Tullio De Mauro, che ovviamente era sempre lui, si era mandato questa mail a se stesso. E questo Piero Tullio De Mauro attestava di appunto averlo assunto in questa multinazionale come contabile e parlava anche di un avanzamento di carriera che aveva fatto fare a Gabriele in quanto avevano capito di che stoffa fosse fatto e del notevole fatturato che aveva portato a questa azienda. E Gloria gli crede, si fida di lui, non ha nessun motivo per non farlo. Gabriele racconta a Gloria che con questa promozione che aveva ottenuto viaggerà molto spesso e viaggerà nel sud della Francia. E ad un certo punto dice a Gloria, sfruttando tutte le cose che lei gli aveva confidato, che voleva proporle un lavoro. Le propone di lavorare per lui come segretaria e di andare via con lui, di andare a vivere insieme a lui nel sud della Francia. Iniziare una nuova vita insieme. E vi ricordate Gloria ha anche studiato lingue e sa benissimo il francese, quindi per lei questa opportunità è perfetta. Questo era per lei un sogno che si avverava. Ora, forse da fuori starete dicendo, ma com'è possibile che Gloria non si sia accorta che palesemente ci fosse qualcosa che non tornava? Come ha potuto fidarsi? Ma, come sapete, nei miei video alleniamo l'empatia, ok? Quindi immaginate, chiudete gli occhi e immaginate di non aver mai fatto esperienze nella vostra vita. Non avete mai fatto esperienze né belle né brutte. Non vi siete mai innamorati. Non avete mai ricevuto le attenzioni di un uomo o di una donna. E all'improvviso, all'età di 50 anni, un ragazzo giovane e bello vi riempie di attenzioni. E voi non avete quella malizia che comunque deriva dall'esperienza che voi non avete mai avuto. Perché purtroppo quando un genitore è troppo protettivo e pensa di fare del bene, in realtà fa l'esatto opposto. Perché attraverso l'esperienza che uno impara a conoscere il bene dal male, fa tutto parte della vita, no? Gloria era troppo buona per vedere malizia in quello che Gabriele stava facendo. Non era stupida, assolutamente. Era molto ingenua. E a questo punto era anche innamorata. Aveva perso la testa per lui. E non dimentichiamo che Gabriele non è l'ultimo degli sprovveduti. Gabriele era un vero e proprio truffatore. Inizia quindi a riempire Gloria di messaggi, mail, lunghissime, in cui le scrive cose tipo se fossi più indipendente, se avessi più soldi, ti avrei già portata via con me. Oppure vorrei essere più spontaneo e poterti vivere un po' di più. Ti penso sempre. Sei il mio chiodo fisso. E si firmava sempre con tuo G. E chiaramente pian piano inizia sempre più a buttare lì il fattore soldi. Inizia a dirle che chiaramente per fare quel passo, per trasferirsi in Francia, avevano bisogno di un capitale di partenza. E quindi Gabriele chiede a Gloria tutti i suoi soldi. Tutti i risparmi che aveva messo da parte. Tutti i risparmi di una vita. Ma lo fa in modo scaltro, si insinua piano piano nella sua mente, facendo in modo che Gloria pensasse che fosse una sua idea, mentre in realtà era Gabriele ad aver manipolato tutto. Avete capito? Ormai l'aveva in pugno. E le promette in ogni caso che quei soldi in pochissimo tempo sarebbero triplicati. Quindi di non preoccuparsi. E Gloria nel febbraio del 2014 purtroppo accetta. Ma prima ne parla a sua madre. Ora, sua madre non aveva capito quanto schifoso questo Gabriele fosse. Perché appunto Gabriele era molto bravo a farsi vedere come qualcosa che non era. Ma diciamo che a sua madre il fatto che sua figlia si fosse palesemente presa una cotta per un ragazzo così giovane, ecco, questa cosa non la faceva impazzire. Quindi era comunque preoccupata. E dice a Gloria, le chiede perché devi prelevare tutti i tuoi soldi. Non puoi investirne magari solo una parte. Ma Gloria aveva già preso una decisione e quella era la sua nuova vita. Una vita in cui per la prima volta era lei a decidere. E quindi preleva i soldi, li mette in una valigetta, in banconote da 500 euro e li dà a Gabriele. E successivamente a questa cosa, lo sapete cosa fa Gabriele per prendere tempo. Vi ricordate quella donna di 45 anni, Efisia Rossignoli, che aveva provato a sedurre e poi l'aveva scaricata una volta che aveva capito che non c'erano soldi da spillare? Perfetto. Gabriele le ritelefona e le dice Efisia, guarda, scusami, sono stato uno stronzo. Facciamo pace, perdonami. Ah, ho bisogno di un favore. Ho bisogno che tu chiami questa signora e che ti finga una direttrice di banca. E lei, signori miei, lo fa. Non chiedetemi perché, ma accetta. Telefona a Gloria, fingendosi una direttrice di banca, per tranquillizzarla. Le dice che quei 187 mila euro che aveva dato a Gabriele erano in transito e stavano appunto per arrivare alla società Business Service Group, che era tutto a posto di non preoccuparsi. E quindi Gloria è ancora più sicura, ancora più felice della sua scelta. Non ha davvero nessun motivo per dubitare. E mi spezza il cuore pensare che in questo periodo Gloria abbia iniziato a farsi un po' dei castelli, abbia iniziato a fare pensieri, a sognare la sua vita nel sud della Francia con questo bel giovane. Ne parlava anche alla sua amica. Le raccontava che dal momento in cui Gabriele aveva lasciato quella sua fidanzata toscana, le cose tra loro erano cambiate. Mentre invece le cose erano cambiate dal momento in cui Gabriele aveva capito che Gloria aveva dei soldi da parte. Ma comunque una volta che Gabriele riceve i suoi soldi, indovinate un po' cosa fa. Sparisce completamente. Non le risponde più né alle chiamate, né alle mail, né ai messaggi. E Gloria, di nuovo, anche di questa cosa, parla alla sua amica storica, ma non le dice tutta la verità. Non vuole ammettere a se stessa che Gabriele sia sparito perché aveva ottenuto quello a cui era interessato. Infatti, alla sua amica a cui solitamente raccontava tutto, dice invece che alla fine Gabriele le aveva preso solo 20.000 euro. Ma appunto non vuole credere che Gabriele abbia davvero fatto una cosa del genere. Eppure il cellulare di Gabriele era irraggiungibile, la sua pagina Facebook era stata chiusa e persino casa sua. Aveva le finestre sprangate e c'era un cartello vendesi davanti al portone. Quando Gloria vede questo cartello, capisce che i suoi soldi probabilmente non li rivedrà mai più. Ma ad ammettere questa cosa a se stessa purtroppo ci metterà un po' di tempo perché quando deciderà di fare finalmente denuncia sarà passato già un anno. Decide di fare denuncia contro Gabriele il 29 settembre del 2015. Anche se il termine per presentare la querela per questo genere di cose è solitamente di 90 giorni. Ma alla fine non ha tanta importanza perché in realtà questi 90 giorni partono dal momento in cui uno capisce di essere stato truffato. Quindi sporge, denuncia contro Gabriele e si rivolge ad un avvocato che inizia a cercarlo perché nessuno sapeva dove fosse finito Gabriele in tutto ciò. Ma l'avvocato non ci mette molto tempo a trovarlo. Scopre che Gabriele si era trasferito in una villetta a Gassino torinese che è una frazione di Torino comunque proprio attaccata a Torino sembra una piccola zona invece è comunque fuori Torino vabbè non importa. Comunque Gabriele si era trasferito lì insieme sempre a sua madre e a suo fratello. Allora l'avvocato gli invia una lettera molto informale con su scritto vi avvisiamo che dovete restituirci i 187 mila euro. Allora la mamma di Gabriele Caterina telefona a Gloria e le dice Gloria dai ma insomma non mettiamo di mezzo gli avvocati vediamoci tra noi parliamone tra noi gli avvocati no dai risolviamo così tra noi. La cosa che mi manda in bestia è che in questa storia sembra che davvero tutti pensavano di poter trattare Gloria come cavolo gli pareva. La madre di Gabriele si stava comportando esattamente come suo figlio. Comunque a questa richiesta di Caterina di incontrarsi tra loro senza gli avvocati Gloria risponde sì ok ma Gabriele dov'è? E la madre risponde che non lo sa neanche lei perché poverino Gabriele era anche lui una vittima perché a quanto pare dopo aver ricevuto quei soldi il suo capo no il capo di questa importante società business service group l'aveva picchiato ed era scappato con tutti i suoi soldi i soldi di Gloria di conseguenza Gabriele adesso si stava nascondendo in un posto sicuro per colpa di questo capo pazzo e quello era anche il motivo per cui loro si erano trasferiti da Castellamonte a Gassino per non farsi trovare da questo brutto cattivo ma Gloria non crede ad una sola parola di quello che Caterina stava dicendo e ricontatta il suo avvocato e glielo riferisce gli dice guarda che Caterina ha detto un sacco di bugie Gloria a questo punto rivoleva i suoi soldi aveva capito che c'era qualcosa sotto non le importava più di niente rivoleva solo i suoi soldi o almeno una parte ma a Natale Gloria è malinconica la verità è che Gabriele le mancava le mancava il modo in cui la faceva sentire le mancava il modo in cui lei si sentiva quando era con lui le mancavano quelle sensazioni così forti che non aveva mai provato prima e che all'improvviso erano sparite insieme a lui e quindi ad un certo punto cede e gli scrive una mail gli scrive una mail in cui gli dice che non è in collera con lui vuole solo sapere che stava bene e voleva augurargli un buon Natale ma in tutto ciò Gabriele dov'è? vi starete chiedendo nel frattempo Gabriele è in giro con la sua nuova fidanzatina di turno una ragazza di nome Sofia con cui va al casino di San Vincan e spende tipo 15.000 euro a sera questa ragazzina insieme a lui si sente una regina perché chiaramente lui con lei stava vestendo i panni del fidanzatino ricco che non so la porta nei posti di lusso mentre in realtà la verità è che probabilmente stava sperperando tutti i soldi di Gloria e la mattina del 13 gennaio 2016 Gloria si alza per andare a lavoro e quando esce a luna si trova Gabriele davanti che l'aspettava all'uscita da scuola e a quel punto è più di un anno che non lo vede e è emozionata quell'incontro era totalmente inaspettato e Gabriele inizia a dirle che aveva fatto un sacco di casini ma doveva perdonarlo voleva risolvere tutto voleva ridarle i suoi soldi voleva ridargli fino all'ultimo centesimo ma ovviamente anche quella era una bugia come qualsiasi cosa uscisse da quella bocca ma purtroppo lei di nuovo ci casca Gloria gli risponde subito che doveva andare a pranzo a casa dei suoi genitori che la stavano aspettando ma che subito dopo pranzo intorno alle tre potevano rincontrarsi e discutere di questa cosa Gabriele accetta si danno questo appuntamento e Gloria si precipita a casa mangia in fretta e furia si cambia ed esce di casa dicendo ai genitori che aveva una riunione a scuola ma prima dà un bacio a suo papà e suo papà rimane stranito perché i due erano legati ma non erano molto affettuosi l'uno con l'altra a livello fisico non si davano mai baci e quel gesto gli sembra un po' strano però gli fa piacere e non gli dà molta importanza ma purtroppo quello sarà il primo e l'ultimo bacio tra i due perché da quel momento nessuno avrà più notizie di Gloria e quando quella sera intorno alle sette i genitori vedono che Gloria ancora non era tornata a casa iniziano a preoccuparsi non era da Gloria fare tardi non avvertire e quando alle nove di sera Gloria ancora non è tornata a casa allora sono certi che sia successo qualcosa vanno a scuola per vedere se magari c'era stato qualche imprevisto ma vedono che la scuola è chiusa e non c'è più nessuno allora vanno dritti dai carabinieri e ne denunciano la scomparsa i carabinieri iniziano ad indagare e trovano subito due denunce che Gloria aveva fatto una era contro quei truffatori che si fingevano tecnici dei termosifoni che risaliva ad anni prima e un'altra era una denuncia al nostro Gabriele De Filippi fatta soltanto qualche mese prima quindi il 15 gennaio due giorni dopo la scomparsa di Gloria interrogano Gabriele per chiedere spiegazioni e la sua versione dei fatti è questa Gabriele dice ai carabinieri sempre con quest'aria spocchiosa di chi tanto nella vita la fa sempre franca gli dice che Gloria gli aveva confidato di stare malissimo insieme ai suoi genitori li odiava si sentiva soffocare e lui che era una brava persona aveva deciso di aiutarla di conseguenza avevano inscenato una specie di relazione tra i due lui racconta che tutte quelle mail che si scambiavano in cui quasi amoreggiavano erano finte si erano messi d'accordo anche il fatto che lui le avesse proposto questo lavoro insieme a lui nel sud della Francia era tutto finto se lo erano scritti apposta in modo che Gloria una volta andata dai genitori a dirgli guardate sto andando via di casa poteva fargli vedere che avete visto ho un lavoro sicuro sto andando via di casa per questo perché diceva che altrimenti i suoi genitori non le avrebbero mai permesso di andare via di casa così e Gabriele continua questa sua storia dicendo che ad un certo punto Gloria aveva prelevato tutti i suoi risparmi e quando i suoi genitori se ne erano accorti si erano arrabbiati moltissimo con lei quindi racconta che Gloria a quel punto non volendosi prendere le sue responsabilità ha iniziato a dare la colpa a Gabriele ha iniziato a dire che Gabriele le aveva rubato i soldi e aveva iniziato anche ad andare insistentemente a casa sua accusandolo di aver preso questi soldi cioè lo stava secondo lui accusando di una cosa che in realtà aveva fatto lei e quindi Gabriele aveva capito che Gloria era una pazza e aveva troncato ogni rapporto con lei ed era questo il motivo per cui si era trasferito da Castellamonte a Gassino ai carabinieri da questa versione si era trasferito per nascondersi da Gloria quindi lui non sapeva dove fosse perché aveva troncato ogni rapporto quando aveva iniziato a fare così e comunque nega ovviamente di avere questi soldi dice che Gloria questi soldi a lui non li ha mai dati i carabinieri sapevano che ci fosse qualcosa sotto avevano capito che Gabriele stesse mentendo però dovevano trovare il modo di dimostrarlo perché finora non c'erano prove e durante le indagini scoprono che quella casa che avevano comprato a Gassino quella villetta era costata guarda un po' proprio 200.000 euro che avevano pagato in contanti e questa casa era intestata al 90% a Gabriele e al 10% a sua madre Caterina ora 200.000 euro era una cifra incredibilmente vicina ai soldi che Gabriele aveva rubato a Gloria non pensate lui nega dicendo che invece quei soldi venivano dal fidanzato della madre che aveva pagato questa casa in contanti perché era uno che poteva permetterselo e successivamente i carabinieri sono riusciti a dimostrare che almeno questa era la verità interrogano i genitori di Gloria e gli chiedono se per caso quel giorno il giorno della scomparsa Gloria avesse fatto qualcosa di inusuale qualcosa anche solo leggermente diverso dal solito che un piccolissimo dettaglio che sembra insignificante in realtà molte volte non lo è e allora il padre si ricorda di quel bacio che Gloria gli aveva dato prima di uscire e che non l'aveva mai baciato prima e gli inquirenti a quel punto hanno un brivido iniziano a pensare che forse quello era un bacio da Dio forse Gloria si era resa conto di essersi perdutamente innamorata della persona sbagliata che gli aveva rubato tutti i soldi tutti i risparmi di una vita sparendo anche lui forse si era resa conto di dover vivere una vita appunto senza soldi senza Gabriele e aveva deciso di togliersi la vita ma anche se fosse stato quello il caso il corpo dov'era? comunque nel frattempo avevano controllato i movimenti dei cellulari di Gabriele e di sua madre Caterina e quando arrivano i risultati di questi dati scoprono che il 13 gennaio il giorno della scomparsa di Gloria Gabriele aveva avuto il cellulare spento tutto il giorno fino alle 21.45 invece la madre quel giorno aveva fatto una telefonata ad un certo Roberto Oberth Roberto Oberth è quasi peggio di Guccio Gucci comunque scusate questo Roberto Oberth era il compagno di un collega di Caterina e a questo Oberth erano intestate due schede telefoniche e questa cosa non è strana di per sé la cosa strana è che proprio quel 13 gennaio era stata effettuata una telefonata dalla scheda 1 alla scheda 2 di questo Oberth i carabinieri a quel punto hanno pensato che o questo Oberth era pazzo e si telefonava da solo oppure qualcun altro stava usando una di queste schede e questo piccolissimo dettaglio darà una svolta decisiva a questo caso ora per risalire ai movimenti che uno fa attraverso il cellulare le autorità controllano a quali celle in giro per la città si aggancia il segnale del tuo telefono insomma e scoprono che dall'8 gennaio del 2013 quindi tre anni prima una di queste due schede di Oberth si trovava sempre nello stesso identico posto in cui si trovava lo smartphone di Gabriele De Filippi si agganciava alle stesse celle agli stessi orari percorreva le stesse strade di Torino allora controllano dove si trovasse quella scheda il 13 gennaio il giorno in cui Gloria era scomparsa e vedono che si era agganciata al segnale del ripetitore più vicino alla scuola media in cui lavorava Gloria in questo modo scoprono che Gabriele era andato a prenderla vi ricordate quel giorno all'uscita da scuola così possono smontare la versione di Gabriele che ovviamente aveva un alibi per quel giorno lui non c'era lui era stato a casa col fratellino tutto il giorno e la madre aveva confermato questo alibi quindi adesso sanno che stava mentendo adesso hanno la certezza che lui fosse coinvolto perché non solo aveva mentito sull'alibi ma aveva anche visto la vittima il giorno della sua scomparsa ma ora hanno anche questo altro nome questo Roberto Robert ma chi era questo tizio Roberto Robert era un uomo di 54 anni che aveva conosciuto Gabriele appunto attraverso la madre e lo conosceva da quando Gabriele aveva 15 anni non lo dico per elogiarlo perché davvero questa persona Gabriele è un essere spregevole però è incredibile come in questa storia vediamo come tutte le persone che Gabriele incontra nella sua vita rimangano stregati da questo coso cioè come se andasse in giro con una gigante rete e la gente ci cascava dentro questo perché anche con Robert era andata così Robert era di famiglia possiamo dire benestanti stava bene economicamente e dove ci sono soldi c'è Gabriele infatti ad un certo punto Gabriele prende l'iniziativa e seduce Robert hanno rapporti diverse volte sempre chiaramente di nascosto dal compagno di Robert e Gabriele non tarda ad avanzare la sua solita richiesta anche con lui perché all'inizio della loro diciamo relazione gli aveva chiesto 200.000 euro che gli servivano diceva per un affare ma Robert glieli aveva negati e allora indovinate che cosa aveva fatto Gabriele ovviamente come al solito era sparito aveva smesso di rispondere le sue chiamate i suoi messaggi a tutto come sempre in tutto ciò Robert aveva appunto queste due schede telefoniche di cui una l'aveva sempre data a Gabriele per poter comunicare in segretezza immagino ma a quanto pare si erano reincontrati nel gennaio del 2016 e si erano incontrati per caso per strada un giorno e improvvisamente Gabriele era tornato tutto gentile con lui e quando Gabriele è gentile significa che ha bisogno di un favore Robert allora gli chiede come mai fosse sparito così all'improvviso e Gabriele si trasforma nella povera vittima gli risponde che il motivo per cui era sparito era perché c'era questa donna brutta e cattiva di nome Gloria Rosbock che pensa un po' l'aveva denunciato senza motivo perché lui non aveva fatto niente di male questa donna era pazza si guadagna un po' di empatia da parte di Robert e quando l'ha ottenuta gli dice che lui ha questa donna vuole farla pagare Robert non conosce Gloria non l'ha neanche mai vista nella sua vita ma dice a Gabriele di lasciar perdere ma la cosa inquietante è che qualche giorno prima dalla sparizione di Gloria Gabriele aveva chiesto a Robert se per caso conosceva un posto in cui poteva far sparire qualcuno e Robert non gli risponde ma cosa significa ma in che senso fare sparire qualcuno ma cosa stai dicendo no gli risponde ah si aspetta c'è un posto vicino a Rivara sai lì c'è una discarica sarebbe perfetto per far sparire qualcuno e sempre quel giorno Gabriele gli chiede anche se per caso avesse una pala perché doveva scavare una buca ma in tutto questo Robert pensa che sia solo tutto uno scherzo una burla e qui arriviamo a quel 13 gennaio del 2016 giorno in cui Gloria sparisce vediamo che cosa le è successo quel giorno Gabriele telefona a Robert e gli dice che ha bisogno di un favore ha bisogno che lo raggiunga a Castellamonte e vuole che lo accompagni a prendere una signora a quel punto Robert immagina che quella signora fosse la stessa di cui Gabriele gli aveva parlato qualche giorno prima che lo aveva denunciato Gabriele gli dice che a questa signora voleva solo parlare e aveva bisogno di qualcuno che andasse con lui aveva bisogno del supporto di qualcuno e Robert che è completamente rimbambito da Gabriele accetta quindi Robert e Gabriele si danno appuntamento in un posto e poi da lì con la twingo bianca di Robert vanno all'appuntamento con Gloria che intanto aveva mangiato dai suoi aveva baciato il padre ed era uscita per incontrare Gabriele si incontrano e Gabriele presenta Robert a Gloria dicendo che lui era l'uomo che le avrebbe ridato tutti i suoi soldi e glielo presenta come se fosse una specie di avvocato se non sbaglio e anche lì Robert non dice niente sta al gioco perché continua a pensare che si tratti di uno scherzo orribile quello che aveva capito lui che aveva pensato era che forse l'intenzione di Gabriele era di portare Gloria in questa discarica in cui aveva scavato questa buca e di spaventarla dicendole tipo se non ritiri la denuncia che mi hai fatto finisci dentro questo fosso una cosa del genere lui dice che questo era quello che aveva capito che era uno scherzo di cattivo gusto ma che lui era talmente imbambolato da questo Gabriele che era stato al gioco invece a questo incontro Gabriele fa sedere Gloria nel sedile davanti della macchina alla guida c'era Robert e Gabriele si siede nel sedile posteriore esattamente dietro Gloria Robert inizia a guidare verso questa discarica sempre convinto che il piano fosse di portarla lì e di spaventarla quando all'improvviso Gabriele tira fuori una specie di foulard con cui inizia a strangolare la professoressa Gloria Rosbach che con un filo di voce gli dice ma che cosa fai e poi perde i sensi a quel punto Robert che stava guidando dice di avergli urlato ma che cazzo fai e dice che con una mano aveva provato a liberare la professoressa da quella presa ma Gabriele gli urla di stare zitto stare fermo e continuare a guidare nel posto che avevano deciso arrivati nello spiazzo Gabriele scende dalla macchina tira giù anche Gloria che era inerme la stende sul prato e nuovamente le tira questo foulard intorno al collo per assicurarsi che fosse morta successivamente spogliano Gloria dalla vita in giù perché Gabriele era convinto che in questo modo il corpo si decomponesse più in fretta e gettano il corpo in una delle vasche di smaltimento del percolato che è quel liquido che si forma dalla decomposizione dei rifiuti quello era un posto orribile con un odore insopportabile e loro lasciano il corpo di Gloria senza vita mezzo nudo in questa questa specie di pozzo quando gli inquirenti vanno a prendere Obert per interrogarlo lui confessa tutto praticamente subito e racconta che aveva fatto tutto Gabriele e li porta anche nel luogo in cui avevano lasciato il corpo di Gloria e la trovano in quella vasca il corpo era praticamente ancora intatto per via della temperatura molto fredda e Gabriele in tutto ciò aveva continuato a negare ma era stato comunque trattenuto in via precauzionale e a questa cosa lui reagisce come un pazzo inizia a urlare a pretendere spiegazioni a dire che non potevano fare quello che lui non aveva fatto niente di male ma finalmente i carabinieri gli dicono di calmarsi pure che avevano tutti gli elementi per incriminarlo ma soprattutto che Obert aveva confessato e che avevano trovato il corpo di Gloria e a quel punto arrestano sia Obert che Gabriele e a quel punto i due iniziano a darsi la colpa a vicenda Obert dice che aveva fatto tutto Gabriele l'aveva uccisa lui e invece Gabriele dichiara di essere lui la povera vittima di questo brutto e cattivo Obert che aveva approfittato di lui e che l'aveva anche coinvolto in questa brutta storia che lui voleva bene alla professoressa Rosbock non avrebbe mai voluto ucciderla ma comunque oltre a loro due sapete chi hanno arrestato anche Caterina la madre di Gabriele che appunto quando i carabinieri le avevano chiesto dove fosse suo figlio il giorno della sparizione di Gloria lei aveva risposto che Gabriele era stato a casa tutto il giorno con il fratellino minore che non poteva stare da solo gli aveva quindi fornito un alibi ma a questo punto sapevano che aveva mentito anche perché in realtà Caterina si era organizzata già dal giorno prima con il suo fidanzato chiedendogli di poter tenere lui il fratello minore che aveva addirittura accompagnato Gabriele all'incontro con Robert il 13 gennaio proprio poche ore prima che uccidessero Gloria e mente anche quando dice che nelle ore successive all'omicidio lei si trovasse in ospedale a lavorare mentre a quanto pare non era vero quindi forse era insieme a Gabriele mentre cercava di sbarazzarsi delle prove di quello che aveva fatto mentre lavava la macchina bruciava la scheda telefonica e quando le chiedono perché avesse mentito lei risponde che l'aveva fatto perché da sempre era spaventata di suo figlio perché l'aveva sempre maltrattata picchiata e insultata era sempre stato violento con lei e indagando su Caterina scavano un po' nel suo passato per capire che tipo di persona fosse e scoprono che Caterina era sempre stata sfortunata in amore aveva incontrato praticamente sempre e solo uomini che erano stati violenti con lei ma quando non lo erano era lei ad approfittarsi di loro in particolare era interessante la testimonianza di un uomo un uomo che aveva anche alcuni problemi di salute e che racconta di come lei gli avesse spillato un sacco di soldi e racconta che ad un certo punto lei lo aveva preso messo in macchina e l'aveva lasciato all'uscita della croce rossa e gli aveva detto adesso chiama pure tuo padre fatti venire a prendere perché a me non mi vedi più e tutto questo senza motivo non avevano neanche litigato e quest'uomo racconta anche un altro particolare inquietante racconta che una volta era insieme a Caterina nella loro camera da letto e si stavano baciando e ad un certo punto era entrato Gabriele con un coltello da cucina in mano e lo aveva minacciato di morte fortunatamente adesso quest'uomo è sposato con un'altra donna una donna normale e fa una vita tranquilla e successivamente Caterina aveva incontrato l'uomo con cui stava nel periodo in cui si è svolta questa vicenda l'uomo che le aveva comprato la casa a Gassino che aveva pagato quei 200.000 euro in contanti e quest'uomo era talmente innamorato di Caterina che per lei avrebbe fatto qualsiasi cosa sapeva abbastanza che Caterina stava approfittando di lui e dei suoi soldi ma gli andava bene così avrebbe fatto di tutto per lei e per la sua famiglia e successivamente a tutta questa vicenda a quest'uomo fa un commento che mi lascia un po' l'amaro in bocca perché dice che se Gabriele gli avesse chiesti a lui questi dannati 187.000 euro probabilmente lui glieli avrebbe anche dati così non ci sarebbe stato bisogno di togliere la vita ad una donna innocente comunque il personaggio di Caterina non è molto chiaro in questa vicenda non è chiaro se fosse l'ennesima vittima di suo figlio stregata anche lei da lui maltrattata da lui in più e più occasioni lui le ha messo le mani addosso le ha anche spaccato diversi cellulari in preda a questi scatti di ira che gli prendevano però lei aveva sempre sopportato tutto perché era suo figlio e non si capisce appunto sembra essere a metà tra una vittima di Gabriele e una scaltra approfittatrice non si capisce se in realtà le stesse bene che Gabriele avesse questo vizietto di approfittarsi di uomini e donne più grandi di lui in cambio di soldi o se forse il suo non dire mai niente derivava proprio dalla paura verso Gabriele come dice lei stessa al processo Gabriele spera nell'infermità mentale che però non gli daranno mai perché sì è vero che aveva qualche disturbo della personalità ma Gabriele era decisamente in grado di intendere di volere quando ha fatto tutto quello che ha fatto e si becca invece 30 anni di prigione mentre Obert viene condannato a 18 e la madre di Gabriele alla fine viene assolta e in seguito non ne vorrà mai più sapere di suo figlio ribadisce che la picchiava che la maltrattava che aveva sempre avuto paura di lui e che ora doveva affrontare il suo destino che stava scontando la pena che si meritava Gabriele in carcere all'inizio non se la passa affatto bene entra in una profonda depressione e tenta anche di togliersi la vita però senza riuscirci e l'anno scorso ha anche contratto il covid e quindi era stato mandato a casa ai domiciliari finché non è guarito e quando è guarito è tornato in carcere in cui si trova tuttora e questi amici miei sono tutte le informazioni che ho su questo caso un caso che davvero mi ha messo tanta tristezza tanta rabbia Gloria non meritava neanche lontanamente quello che le è successo non meritava davvero neanche di incontrarlo questo piccolo vermiciattolo di Gabriele e la cosa che mi terrorizza è il pensiero che comunque Gabriele è ancora giovane quindi quando uscirà di prigione quando finiranno questi 30 anni sarà comunque ancora giovane quindi non lo so io penso che sia un essere estremamente pericoloso incapace di provare rimorso e io non fraintendetemi io sono fermamente convinta che le persone possano cambiare che possano riabilitarsi ma non tutte e non sempre e in questo caso fatemi dire la mia opinione io penso che lui non abbia proprio gli strumenti per poter cambiare perché non provando empatia come fa a pentirsi di quello che ha fatto l'unico motivo per cui una persona del genere può mai pentirsi è solo per il fatto di essere stato beccato questa è la mia opinione spero di sbagliarmi ovviamente comunque come al solito lasciatemi un commento fatemi sapere che cosa invece pensate voi vi ringrazio di aver passato il tempo con me anche oggi e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao